Fratelli e sorelle nel Signore, questa sera voglio parlarvi, voglio prendere alcuni passaggi delle Sacre Scritture per porre in evidenza delle debolezze dei servitori di Dio, perché ci dobbiamo ricordare le cose grandi che Dio ha fatto tramite i servitori di Dio. Però è giusto anche ricordare che questi servitori di Dio, come lo era Elia, andiamo a leggere, come i servitori di Dio avevano in loro le stesse debolezze che sono anche in noi oggi, come è scritto appunto per il profeta Elia. E andiamo a leggere, andiamo a leggere quello che ci dice Giacomo nella sua epistola al riguardo di Elia. Andiamo al capitolo 5 di Giacomo, al versetto 17. Giacomo scrive queste parole. «Elia era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi e pregò ardentemente che non piovesse e non piove sulla terra per tre anni e sei mesi. pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto». Con queste parole cosa vuole dire Giacomo? Vuole dire che, benché Elia avesse a, perché noi sappiamo che la scrittura ci insegna che Elia è stato arrabbito in cielo, quindi non è morto, ma ha ancora un compito, una missione da compiere in futuro. Farà parte dei due testimoni. Ma ora prendiamo in considerazione quello che Elia ha fatto. Vedete come Dio si è servito di Elia, che noi dimostriamo che non solo è un servitore di Dio, come dice Giacomo qui, che ha fatto delle cose grandi e Dio lo ha esaudito per le preghiere che ha fatto. Però non solo bisogna considerare questo, non solo bisogna considerare le cose grandi che Egli ha fatto, ma anche bisogna considerare che aveva le stesse passioni che noi. Cosa sono queste passioni? Queste passioni sono dei momenti di forte e anche persistenti emozioni che sono dentro le persone. E queste forti emozioni possono talvolta andare a contrastare, a non tenere conto di che cosa? A non tenere conto della verità e della parola di Dio, capite? Quindi passioni che si possono agitare dentro l'uomo e lo porta a non tenere nella giusta considerazione quello che il Signore ci dice. Queste passioni possono anche essere carnali, possono essere di diverso tipo. Quindi magari un uomo sposato che si fa prendere dalle passioni verso un'altra donna, un altro uomo, per le donne, un sentimento forte che lo investe verso un'altra persona, ma non in maniera lecita, capite? Non è lecito. Infatti Davide guardò, vide Batisheba e lui nacque quella passione e commise adulterio. Vedete, in quel caso non va bene. E in quel caso quella passione nacque, quella passione carnale, la concupiscenza carnale e lo avvense e infatti ha commesso sia adulterio con Batisheba e sia fece uccidere suo marito Uriah Loiteo. Ma ora abbiamo visto quello che Giacomo ha detto di Elia, che aveva pregato affinché non piovesse e Dio lo ha esaudito. Poi ha pregato di nuovo che piovesse e Dio lo ha esaudito. Vedete, cose grandi, il cielo rimase chiuso alla pioggia per tre anni e mezzo perché Elia pregò, chiese una cosa grande al Signore e il Signore lo ascoltò. Ma badate bene, ma Elia non era un uomo diverso da noi perché in lui si agitavano le stesse passioni che si agitano anche in noi. E che come Elia poteva sbagliare, così anche noi oggi per queste passioni possiamo magari commettere qualche errore. Naturalmente quando noi sbagliamo e veniamo corretti o comunque o corretti o dai fratelli o anche dal Signore stesso veniamo corretti, dobbiamo accettare la correzione, dobbiamo riconoscere di aver sbagliato, ravvederci e ritornare al Signore chiedendo perdono dei nostri peccati. E il Signore Gesù Cristo, mediante il suo potente sangue, il sangue di Gesù è potente perché ha la potenza di purificare tutti i peccati, tutti, nessun escluso tranne, dobbiamo fare le eccezioni, tranne quel peccato che esclude l'efficacia del sangue, che è rinnegare Cristo Gesù, capite? Perché uno che rinnega Cristo sta rigettando questa potenza del sangue di Gesù di purificarci da ogni peccato. Ha rinunciato, capite? E quindi il sangue di Gesù, ecco, a chi rinnega, a chi commette il peccato che è e la morte non lo può assolutamente purificare, perché è stato rigettato, non è stato, diciamo, e non è più possibile. Ha rinnegato la potenza del sangue di Gesù Cristo. Invece per tutti gli altri peccati che si commettono, è sempre un peccato, avrà sempre magari le sue conseguenze, però quando uno si ravvede, si inginocchia e chiede perdono al Signore, c'è la possibilità che il Signore, secondo la sua volontà, possa purificare da ogni peccato. Quindi questo peccato, qualsiasi esso sia, omicidio, anche quelli più gravi, adulterio, fornicazione, omicidio, impurità, di qualsiasi genere sia, il Signore ha il sangue di Gesù Cristo può purificare le anime nostre. Quindi dobbiamo avere ferme questa, dobbiamo ricordarci anche di queste parti. Dobbiamo ricordarci che siamo deboli, dobbiamo ricordarci che in noi abita il peccato, dobbiamo ricordarci di tutto quello che è scritto nella parola per metterlo in pratica affinché non cadiamo, però se dovesse capitare, come dice Giovanni, se capita che noi pecchiamo, sappiamo che il Signore, il Signore Gesù Cristo è alla destra del Padre, intercede per noi e mediante la fede nel sangue adesso noi otteniamo, ravvedendoci dei nostri peccati, noi otteniamo la purificazione dei peccati commessi. Quindi dobbiamo ricordarle queste cose, ricordare anche che siamo deboli però, ricordare che dentro di noi ci sono delle passioni e questo da una parte ci aiuta perché riconosciamo quello che siamo, le nostre debolezze, ma dall'altra ci porta, visto che Giacomo ce lo ha rivelato, ci porta a pensare che comunque le stesse passioni, le stesse agitazioni che sono in noi si agitavano anche nei servitori di Dio, capite? Anche nei servitori di Dio che ci sono adesso. Non sono perfetti, non sono immuni alle varie passioni che possono scatenarsi, dobbiamo però impegnarci a controllare ogni cosa. Ecco perché ci vuole l'autocontrollo, la temperanza, l'autocontrollo in ogni caso perché purtroppo in tali momenti possono scoppiare delle passioni forti che ci spingono, fanno di tutto diciamo per portarci lontano dalla volontà di Dio. Ma noi dobbiamo tenere, ecco l'autocontrollo che riesce a controllare queste passioni che si sono scatenate in noi, queste forti emozioni che si sentono per riportarli sotto il controllo della parola di Dio, capite? Quindi autocontrollo, controllarsi in ogni cosa. Ora volevo leggervi qualche passaggio perché abbiamo detto, Giacomo ha detto che Elia era sottoposto alle stesse passioni che noi. Vedete questa uguaglianza? Noi siamo sottoposti alle nostre passioni, ma anche Elia lo era. Ora vediamo un caso in cui si vede, in cui le scritture ci fanno vedere la debolezza del profeta Elia, la sua umanità, il fatto che anche in lui ci fossero le stesse caratteristiche della carne che ci sono in noi oggi, capite? Quindi non bisogna pensare ai servitori di Dio come se per loro fosse una cosa impossibile peccare o farsi prendere dallo sconforto o abbattersi o sentirsi giù, no? Perché loro avevano la stessa carne che abbiamo noi oggi, i servitori di Dio, o anche oggi hanno la stessa carne che noi, i grandi servitori di Dio. Siamo tutti in questa carne, in questa carne abita il peccato, noi dobbiamo dominare il peccato, dobbiamo pregare Dio, rimanere perseveranti nella preghiera perché dobbiamo sino alla fine tenere sotto controllo ogni cosa e soprattutto dentro la nostra carne che possono scoppiare certe passioni, certi forti sentimenti che contrastano contro la verità e la parola di Dio. Quindi dobbiamo controllarci, però dobbiamo cominciare per saper controllare ogni cosa, dobbiamo cominciare da conoscere alcune cose. È vero che siamo deboli ma è anche vero che per questa carne potevano essere deboli anche i servitori di Dio e vediamo una debolezza ad esempio nel profeta Elia. Leggiamo dal primo libro dei re al capitolo 19. Cos'era successo? Era successo che Elia aveva invocato il Signore e aveva, diciamo, il Signore gli aveva confermato la sua presenza, aveva ucciso tutti i profeti di Bal e di Astarte, tutti i falsi profeti, diciamo, profeti di dei stranieri che Israele non conosceva e aveva fatto una grande opera, aveva invocato il Signore e il fuoco dal cielo scese per bruciare il suo sacrificio. Insomma, il Dio attraverso Elia aveva compiuto grandi segni, quindi Dio era, l'Eterno era con Elia. Ora, dopo che uccise quei profeti, guardate cosa successe e guardiamo, notate, la reazione a certe notizie da parte di Elia. E sta scritto, 19.1 di Prima Re, Or-Aqab raccontò a Izebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso di spada tutti i profeti, i profeti falsi, eh quelli. Allora Izebel spedì un messo ad Elia per dirgli, gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore. Se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che tu hai fatto della vita di ognun di quelli. Elia, vedendo questo, in un'altra, altri manoscritti scrivono preso da paura. Quindi Elia, vedendo questo, preso da paura, si levò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Ber-Sheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli, sinoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo, basta, prendi ora o eterno l'anima mia, perché io non valgo meglio dei miei padri. Io voglio concentrare la vostra attenzione sul fatto che Giacomo ha detto, leggendo anche queste scritture, perché Giacomo è vero che ha parlato ispirato dallo Spirito Santo, ma vedete come anche leggendo le scritture si vedeva la natura di Elia, che era umana, non era una natura, diciamo, che non teneva conto delle debolezze umane. Cioè, il Dio si serve di uomini per portare avanti il suo piano, nel suo disegno. Si serve anche di noi, che siamo uomini, e tra le nostre caratteristiche c'è anche quello magari di avere delle debolezze, di avere certe passioni che a volte scattano e ci portano a commettere qualche errore, capite? Però questo non fa di noi. Quando noi sbagliamo, quando i servitori di Dio hanno sbagliato, e ne leggeremo altri, non ha fatto di loro delle persone che non erano più servitori di Dio o quello che hanno fatto non è servito, no. Era solamente per ricordare sempre che ognun uomo, anche i più grandi servitori di Dio, come caratteristica hanno sempre quella che sono uomini deboli. E le passioni possono scattare nel cuore e nell'animo di tutti, capite? Queste passioni che possono contrastare la verità della parola di Dio, possono contrastare i buoni sentimenti, possono cercare soddisfazione nella carne che non devo cercare normalmente, che la parola condanna, capite? Però la parola ci dice attenzione, siamo tutti sottoposti. Sottoposti vuol dire che non abbiamo la vittoria su quelle passioni, cioè non abbiamo una vittoria totale per adesso, che siamo in questa carne, che siamo in questa terra, non abbiamo la vittoria totale. Però il Signore è con noi e ci aiuta a limitare i danni, a contenere, diciamo, a contenere queste passioni che possono scatenarsi per diverse ragioni, possono scatenarsi dentro di noi. Quindi dobbiamo tenere bene a mente le nostre debolezze, ricordarci delle nostre debolezze, ricordarci delle debolezze dei servitori di Dio. Perché ricordarci delle nostre debolezze ci aiuta a non inorgoglierci, a non sentirci superiori di quello che in realtà dobbiamo sentirci. Ma ricordarci delle debolezze dei servitori di Dio ci fa anche capire che anche loro erano come noi, cioè non erano degli superuomini indistruttibili di ferro che nulla poteva intaccarli. No, abbiamo dimostrato, leggendo Elia, come ha compiuto grandi opere per la mano di Dio, ma appena giunse la notizia e la minaccia di morte da Isabel, fuggì per salvarsi la vita, preso da timore, voleva salvarsi la vita, ci ha temuto gli uomini, vedete? E non è a caso che Giacomo ha citato proprio Elia, capite? Grandi opere, ma anche debolezza nella carne, vedete? Non era un superuomo Elia, non era per la parte scritta, ho usato il passato ma impropriamente perché Elia è ancora oggi, veramente per il Signore sono tutti anche quelli che sono deceduti perché per il Signore esistono tutti, o sono in paradiso, o sono in cielo, o sono all'inferno, però esistono comunque tutti. Ma per Elia in modo particolare mi riferisco al fatto che lui è ancora nella carne, vivo, che dovrà compiere la sua opera alla fine, prima della venuta di Cristo e dovrà poi morire, sarà messo a morte dall'anticristo. Quindi questo abbiamo parlato delle debolezze di Elia, ma ora vediamo altri problemi, altre debolezze, altri errori che sono successi, andiamo a leggere che sono riportati nelle scritture, perché le sacre scritture non riportano solo le cose positive che i servitori di Dio hanno fatto, ma le sacre scritture, testimoniando della verità, ci riportano cose positive e cose negative, capite? Quindi quando noi parliamo sia delle cose positive che delle cose negative non facciamo altro che imitare il Dio che ha voluto raccontarci le cose positive dei Suoi servitori e anche le cose negative. E così dobbiamo fare noi, noi dobbiamo raccontare le cose positive e le cose negative, ricordarle, perché? Perché così è, così è bene che sia. Se uno si mette a parlare solo delle cose positive di un certo fratello, di una certa comunità, capite? Si spinge a deizzare, a ritenere quel gruppo di credenti infallibili, perché parla solo di cose positive. Invece la scrittura della Chiesa, in genere, parla sia delle cose positive sia delle cose negative. Qui, siccome in questo mio messaggio sto evidenziando le cose negative per dimostrare che anche i servitori di Dio, hanno avuto ed hanno ancora oggi le loro debolezze. Tanto più, quindi, tanto più, quindi, noi semplici credenti abbiamo delle debolezze che ci possono portare a sbagliare, ma questo non ci deve atterrare. Ci dobbiamo rialzare in piedi, riconoscendo, sì, le nostre debolezze è il nostro peccato, ma rialzarci e camminare perché siamo comunque in questa carne. Quindi non dobbiamo scoraggiarci se abbiamo comunque commesso qualcosa che non andava bene. Abbiamo sempre il sangue di Gesù Cristo che ci purifica da ogni peccato e dobbiamo andare avanti. Non ci si può fermare. Un errore non ci deve fermare neanche due, neanche tre, capite? È preferibile. Figlioletti dice Giovanni, figlioletti io vi scrivo affinché non pecchiate. Cioè la volontà di tutti gli apostoli, di tutti quelli che hanno scritto, dello Spirito Santo e di Dio e di Gesù Cristo è quello che noi non pecchiamo. Ma cosa succede se pecchiamo? È tutto perduto? Non si può fare più niente? No, assolutamente no. Se noi pecchiamo è meglio non peccare, ma se noi pecchiamo, sbagliamo, ci facciamo prendere erroneamente dalle passioni, non ad una passione magari di antipatia verso una persona, di odio verso qualcuno e ci scagliamo contro di lui con una ostilità particolare, stiamo sbagliando. Ma questo cosa vuol dire? Che non c'è più niente da fare. No, si riconosce il proprio errore, si riconoscono le proprie debolezze, si chiede perdono al fratello se abbiamo peccato contro il fratello. A Dio si chiede perdono e il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato e si cammina di nuovo. Non ci si deve fermare. Evidenziale debolezze non vuol dire giustificare il peccato, non voglio assolutamente trovare giustificazioni al peccato, ma voglio che quelle anime che si sono, diciamo, che sono cadute e non hanno la forza di rialzarsi, che si sentono ormai ho sbagliato che posso fare più. No, non è così. Non è giusto lasciarsi andare al peccato, ma non è neanche giusto una volta che hai peccato lasciarti andare e pensare che non c'è più niente da fare. Perché non è così? Solo il peccato che mena morte non trova remissione e riabilitazione davanti a Dio. Tutto il resto, qualsiasi cosa tu abbia commesso, ricordati che il Signore è misericordioso. Quindi ravvedite, chiedi perdono a Lui e il sangue di Gesù Cristo ti purificherà da ogni peccato. Quindi forza, andiamo avanti. Se sei inciampato, rialzati perché il sangue di Gesù ti sostiene, ti purifica. La parola di Dio illumina il nostro sentiero che dobbiamo percorrere. Hai inciampato, hai trovato un fosso, ti sei fermato per un po'. Devi riprendere il cammino, non ti devi bloccare, non ti devi fermare assolutamente. Ora leggiamo, leggiamo per quanto riguarda la Chiesa e i servitori di Dio al capitolo 6 di Atti degli Apostoli. In particolare è il racconto quando c'erano i poveri, che si dava da mangiare ai poveri, c'era una parte di questi poveri che venivano trascurati, cioè che non venivano trattati nella stessa maniera che i poveri ebrei. Capite? Magari i poveri ebrei mangiavano tutti i giorni, faccio un esempio e non lo dice la scrittura esattamente, però per farvi capire che c'era un'ingiustizia in atto. Alcuni mangiavano magari abbondantemente tutti i giorni e altri invece quelli greci, i giudei mangiavano tutte le vedove, le vedove diciamo israeliti mangiavano tutti i giorni e non gli mancava nulla. Mentre le vedove veramente bisognose, che erano greche, praticamente non avevano tutto il necessario, cioè c'era una disparità di trattamento. Leggiamo, leggiamo ora cosa dice Luca, cosa ha scritto Luca in merito a questa questione. Or in quei giorni, capitolo 6 di Atti degli Apostoli al versetto 1, or in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio degli elenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Vedete? C'è sorse un mormorio. Che cos'era questo? Cosa significa qui? Perché il mormorio è quando si parla, si fa maldicenza di nascosto con voce bassa. Però la parola mormorio può anche riguardare una certa, diciamo, una certa lagna, quando uno si innalza una protesta per esprimere un certo malcontento, però lo fa non in maniera eclatante a voce grossa, ma bensì con una voce bassa. Cioè, mostrano malcontento, mostrano una protesta, una leggera protesta che appena si avverte. Questo è il senso del mormorio, perché qui se c'era veramente una disparità di trattamento avevano ragione quelli che mormoravano, capite? Quindi qui la questione era o facevano solo maldicenza e quindi dovevano essere ripresi per la loro maldicenza, perché non era vero che le vedove elleniste venivano trattate diversamente, erano trascurate dall'assistenza quotidiana. O era maldicenza o era vero o era falso, capite? Però la scrittura qui ci fa capire che la questione era vera, quindi quel malcontento, quella protesta innalzata a mezza voce, mormorando, cioè a voce bassa, che appena si è percepita, quindi non è stata così eclatante manifesta a tutti, però c'era, quella protesta è stata recepita dagli apostoli. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la chiesa nascente, la chiesa che stava nascendo, compivano segni, prodigi, miracoli, vendevano i beni, li distribuivano i poveri, però c'erano delle cose che ancora non andavano perfettamente come dovevano andare, capite? C'erano delle debolezze negli uomini che li aveva spinti a trascurare, a trascurare certe vedove a scappi, cioè a trascurare certe vedove a favore di altre, capite? Quindi c'era una disparità di trattamento. Cosa è successo? È successo che questa cosa giunse agli orecchi degli apostoli e quindi bisognava trovare una soluzione, perché? Perché questa ingiustizia andava sanata, capite? Questa debolezza degli uomini andava sanata. Vedete quindi grandi opere potenti, lo Spirito Santo parlava di continuo, lo Spirito Santo guariva, operava potentemente, ma la carne debole degli uomini li spingeva comunque a commettere degli errori che bisognava porre rimedio, vedete? Cioè non è che la cosa, questi hanno sbagliato, non servono a niente, li cancelliamo e cambiamo chiese. No, c'è un problema e poi si cerca la soluzione da risolvere. E Luca continua dicendo queste parole. E i dodici, raunata la moltitudine dei discepoli, dissero, non è convenevole che noi lasciamo la parola di Dio per servire le mense. Perciò, fratelli, cercate di trovare fra voi sette uomini, dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e che noi incaricheremo di quest'opera. Ma quant'è a noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministerio della parola. Quindi qui cosa fecero? c'era il problema. O dovevano provvedere direttamente gli apostoli a servire alle mense. Ma l'incarico degli apostoli era un altro. Non rientrava l'assistenza alle mense. Gli apostoli dovevano dedicarsi alla parola e alla preghiera. Faccio presente che non si dedicavano solo alla parola a predicare o a guarire gli infermi. Ma il loro ministerio comprendeva anche la preghiera. Quindi voi immaginatevi che pregavano di continuo. Capite? Era una vita di preghiera quella che svolgevano gli apostoli. E quindi hanno trovato, vedete come spiega qui Luca, hanno trovato una soluzione. Cioè scegliete voi sette persone e noi le incaricheremo. Qui voglio far notare come tutta la Chiesa era impegnata nel mandare avanti le cose del Signore. Cioè non faceva tutto un uomo o solo pochi uomini. Capite? Qui gli apostoli dicono questi sette uomini che abbiano determinate caratteristiche naturalmente li dovete scegliere voi. E quindi la Chiesa era operante. Vedete com'era attiva la Chiesa, tutta la Chiesa. Non era solo passiva seduta ad ascoltare. Capite? Ma la Chiesa era attiva, operava, faceva quello che doveva fare, a cui veniva chiamata a fare. E gli apostoli non facevano tutto loro. Cercateli questi uomini che abbiano queste caratteristiche. E una volta che le avete trovati, noi li incaricheremo di fare questo compito. Quindi la Chiesa ha trovato questi sette uomini e gli apostoli poi gli hanno dato, imponendo loro le mani, questo vuol dire che quelli che scelsero, anche gli apostoli li approvarono. Capite? Perché se la Chiesa doveva scegliere, aveva scelto, avesse scelto qualcuno che non era degno, gli apostoli avrebbero mosso le loro rimostranze e dire no, ma questo sei un peccatore, questo non ha queste caratteristiche, non possiamo imporre le mani a quella persona. Capite? Quindi operavano tutti insieme. La Chiesa trovò i sette diaconi e gli apostoli imposero loro le mani per dare loro incarico, quell'incarico, di servire alle mense. E questi dovevano quindi risolvere tutte quelle situazioni di disparità che si erano create nell'assistenza alle mense. Capite? Era un caso pratico. Però vedete come anche quando opera potentemente lo Spirito Santo ci possono essere in mezzo a quella Chiesa delle problematiche che si sollevano e vanno risolte. Che cosa dipende questo? Dipende dal fatto che siamo nella carne e che c'è una certa debolezza da ricordare sempre negli uomini, perché siamo carne e polvere. Ancora non siamo giunti alla perfezione. Se non siamo giunti alla perfezione, questa imperfezione che è in noi si vede, si evidenzia, esce fuori. Capite? Come si manifesta la potenza dello Spirito Santo si manifesta anche la nostra debolezza. Si è manifestata la debolezza della prima Chiesa, dei profeti, degli apostoli. capite? Si sono dimostrati, si sono manifestate queste debolezze e la scrittura ne parla. Se ne parla, ne parla per il nostro ammaestramento, per il nostro incoraggiamento. Quindi se abbiamo fallito in qualcosa non ci dobbiamo scoraggiare, ma andare avanti, chiedere al Signore che ci ristabilisca ai suoi occhi e ci concede la sua grazia, il suo favore, per andare avanti sino alla fine. Ora leggiamo un'altra cosa che è successa in mezzo alla Chiesa. Dobbiamo andare a leggere al capitolo 15 dal versetto 36. Cosa succede qua? Succede che gli apostoli, Paolo e Barnaba, che erano stati messi a parte dallo Spirito Santo e non stati costituiti apostoli, messi da parte e mandati dallo Spirito Santo a predicare la parola laddove in tutti i territori conosciuti la parola non era stata ancora annunziata. In quel primo viaggio accaddero delle cose. E ora leggiamo Luca cosa racconta. E dopo vari giorni Paolo disse a Barnaba, torniamo ora a visitare i fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco. Ma Paolo giudicava che non dovessero prendere a compagno colui che si era separato da loro fin dalla Panfilia e che non era andato con loro all'opera. E ne nacque un'aspra contesa. Tanto che si separarono Barna e Barnaba preso secco Marco navigò verso Cipro. Ma Paolo scelto Sissila partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore e percorse la Siria e la Cilicia confermando le chiese. Cos'era successo nel viaggio prima di questo? Prima di quello che hanno poi intrapreso Paolo e Barnaba? Era successo che avevano portato con sé, con loro, un altro collaboratore che era Giovanni detto Marco. Questo Giovanni detto Marco all'inizio del cammino li aveva abbandonati e era tornato indietro. Ora, Barnaba voleva prenderlo anche nel secondo viaggio. Mentre Paolo giudicava, no, io quello che non è venuto, non ha portato a termine il primo viaggio, non lo voglio con me nel secondo. Cosa era successo? Cosa ha portato questa diversità di vedute su Marco? a una aspra contesa. Cioè ci fu una discussione tra i due che fu molto aspra, lo dice la scrittura. Ma erano tutti e due apostoli, tutti e due ripieni di Spirito Santo, tutte e due operavano potentemente nel nome del Signore. Eppure ebbero una aspra contesa su un fatto così. Potevano risolverla diversamente, potevano pregare Dio, va bene, preghiamo Dio per chiedere al Signore qual è la cosa migliore da fare. No, le passioni, vedete come le passioni si scatenano, si scatenano le passioni, questi forti sentimenti, queste forti emozioni che si agitano dentro le persone e li portano, vedete, a scontrarsi. Potevano scegliere una via più pacifica per trovare un accomodamento. No, è scoppiata un'aspra contesa, vedete? Perché questo? Perché non erano servitori di Dio? No, certo che lo erano, ma erano sottoposti alle stesse passioni che sono sottoposti tutti gli uomini, capite? E questo, siamo uomini e siamo sottoposti alle passioni, siamo sottoposti a quelle emozioni, quei sentimenti che possono scattare in noi e talvolta questi sentimenti che possono essere indignazione, giustamente contro il peccato, contro l'ingiustizia, ma possono essere anche altri tipi di passioni che ci portano a peccare, a prendere una posizione che è sbagliata. Quindi, vedete, anche gli apostoli Paolo e Barnaba erano uomini, semplicemente erano uomini, sottoposti alle stesse passioni a cui noi siamo sottoposti come tutti gli uomini, quindi soggetti a sbagliare, capite? Gli apostoli non erano persone il cui peccato non li toccava mai, no. E ne vedremo un altro, vedremo adesso un altro apostolo che purtroppo, purtroppo anche lui, e benché apostolo, l'apostolo Pietro fosse apostolo, l'apostolo Pietro aveva ricevuto una visione potente dove Dio gli spiegava che non doveva chiamare gentili impuri, non doveva prendere le distanze dai gentili e Pietro, quando andò a trovare Cornelio, gli spiegò a Cornelio che capì quella visione. Quindi Pietro aveva capito bene il concetto, che non doveva considerare impuri i gentili, che non doveva stare lontano da loro e che sapeva anche che non doveva insegnare ai gentili a giudaizzare. Pietro lo sapeva, ma quindi se noi diciamo era un apostolo ripieno di Spirito Santo, sapeva queste cose e Dio gli ha parlato con sogni e visioni, noi ci dovremmo aspettare che Pietro su questo punto non potesse sbagliare. E invece no, e invece no, ha sbagliato su questo punto che Dio gli ha spiegato bene, correttamente. E cosa ci fa capire questo? Ci fa capire questo che anche Pietro era sottoposto alle stesse passioni di tutti gli altri uomini, con le sue debolezze, capite? E questo dobbiamo tenere sempre a mente, quanto noi siamo deboli. Questo vuol dire ricordarci sempre che siamo carne e polvere, badate bene, non siamo infallibili. Dobbiamo sempre controllare a noi stessi, sempre pronti all'autocontrollo. Dobbiamo essere temperati in ogni cosa. E come diceva Gesù, ricordatevi che lo Spirito è pronto, ma la carne è debole. La carne è debole. Le debolezze che sono in noi abitano là, in fondo, alla carne, capite? E ci sono sempre, su tutta la vita ci accompagneranno sempre queste debolezze. E noi dobbiamo chiedere in preghiera, perseverante al Signore, dobbiamo chiedere che il Signore ci fortifichi, ci aiuti a dominare il peccato, che noi teniamo sotto controllo ogni passione che non è da Dio, capite? Perché nel momento in cui non perseveriamo più nella preghiera, o lasciamo andare, ci lasciamo andare, può succedere che queste passioni che albergano nella nostra carne ci possano portare a commettere delle sciocchezze, dei peccati, delle cose più o meno gravi, capite? Poi quando sono gravi, poi se ne paga la conseguenza, eh? Un adulterio, una fornicazione, qualcosa può lasciare un segno indelebile che non si cancella più, faccio un esempio, uno commette un, ma anche un ministro, oppure un semplice fratello, sposato, commette adulterio, una persona, quella donna, rimane incinta, eccolo là, avete visto? Eh, o seguirà l'aborto ed è omicidio, o nascerà e ci sarà sempre il frutto del peccato visibile a tutto il mondo, vedete? Eh, sarà sempre lì, visibile a tutti quelli che lo sanno. Quindi è vero che il Signore può perdonare, ma vedete come il frutto del peccato sarà sempre visibile? A meno che il Signore non faccia come ha fatto con Davide, che ha fatto morire il fanciullino frutto di adulterio, e quindi non c'era più. Però non sempre accade questo. Quindi vedete come bisogna controllarsi in ogni cosa, non bisogna mai lasciare andare le proprie passioni, la propria concupiscenza carnale, perché purtroppo siamo deboli e dobbiamo controllarci, dobbiamo controllarci in ogni cosa, ricordarci quanto siamo deboli. Ma nello stesso tempo, ricordando quanto noi siamo deboli, non è che ci dobbiamo sentire inutili o di una pochezza estrema, no. Perché, guardate bene, che le stesse debolezze facevano parte degli apostoli e dei profeti, capite? È per questo che vi sto leggendo le scritture. Da una parte per ricordarvi, voi siete deboli, noi tutti siamo deboli, perché siamo nella carne, ancora. Ma ricordatevi che tutti i servitori di Dio anche erano nella carne, e siamo stati, siamo e siamo, e sono stati tutti sottoposti alle stesse passioni. Alle stesse passioni. Quindi non dobbiamo avere di noi stessi una considerazione superiore ad altri, ma nello stesso tempo non dobbiamo avere una considerazione di noi stessi inferiore a quello che deve essere fatto. Capite? Ne so, né troppo positivo, né troppo negativo, ma una giusta considerazione di quello che noi siamo. Vi avevo detto che dobbiamo parlare di Giacomo, di Pietro. Allora, andiamo a leggere. Quello che è successo, quello che ha dovuto fare l'Apostolo Paolo, quando Pietro sbagliò quello che vi ho accennato. Capitolo 2 di Galati, dal versetto 11. Ma quando Cefa, venuto ad Antiochia, io gli resistei in faccia, perché gli era da condannare. Vedete? Il fatto che racconta dopo Paolo, qui in Galati, è un fatto che dimostra, qui lo dice, che Pietro era da condannare, perché Cefa vuol dire Pietro, era da condannare, mica roba da poco, stiamo parlando dell'Apostolo Pietro. Ripieno di Spirito Santo, con doni spirituali, guariva gli infermi, cacciava i demoni, e nello stesso tempo era in lui, abitava in lui. La debolezza della carne, le passioni, era sottoposto alle stesse passioni di tutti gli altri. Vedete? Di fatti, prima che fossero venuti certuni, provenienti da Giacomo, egli mangiava coi gentili, ma quando costoro furono arrivati, egli prese a ritrarsi e a separarsi per timore di quelli della circoncisione. e gli altri giudei si misero a simulare anch'essi con lui, tal che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro simulazione. Ma quando vedi che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo, io dissi a Cefa in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, come mai costringi i gentili a giudaizzare? Vedete, l'accusa, è un'accusa grave, si ritirò, si ritirò dai gentili. Cioè, quando vennero dei giudei, Pietro, che aveva una comunione normale con i gentili, si ritirò perché i giudei ritenevano, e questo fu una cosa difficile, dura da eliminare nei credenti, che consideravano i gentili impuri, quindi non si dovevano contaminare con loro, non dovevano avere rapporti con i gentili, capite? Cosa è successo? È successo che normalmente Pietro, Barnabè e gli altri avevano rapporti normali con i gentili, soprattutto con quelli che si erano convertiti al Signore ed erano fratelli. Ma il Dio, attraverso visioni, gliel'aveva spiegato bene a Pietro e l'aveva capito. Invece, quando vennero, accadde che Paolo ha dovuto vivere questa esperienza che ha visto che Pietro, venendo alcuni da Gerusalemme, da Giacomo, si è ritratto, quindi non ha voluto più comunione con i gentili e si è ritirato da loro e ha compiuto quello per cui ha ricevuto rivelazione da Dio, capite? Ha sbagliato, vedete? Paolo l'ha dovuto riprendere duramente e l'ha fatto davanti a tutti ed era da condannare. Era da condannare, quindi Pietro ha fatto qualcosa che era da condannare e l'ha fatto Pietro, badate bene, l'Apostolo Pietro, ripieno di Spirito Santo con dei doni potenti spirituali dello Spirito Santo, operanti in Lui, eppure non era perfetto perché abitava anche Lui nella carne, capite? La carne ci rende deboli purtroppo, la carne ci rende deboli finché saremo su questa terra, dobbiamo ricordarcelo sempre, attento, la carne ti rende debole, quindi evita tutto quello che può far scattare passioni infami e peccaminose dentro di te, devi fuggire queste cose, devi vederle prima, il male lo devi vedere prima che arrivi a un punto di non ritorno, capite? però se uno pecca purtroppo si fa si fa si fa vincere dalle proprie concupiscenze e dopo si deve ravvedere e chiedere perdono a Dio, certo, se non ha rinnegato il Signore può può chiedere e ricevere perdono da parte del Signore, quindi bisogna saperne queste cose e praticarle quando ce n'è bisogno, capite? E voglio concludere per dimostrarvi che sono stati in molti quelli i servitori di Dio che hanno preso che hanno si sono fatti vincere dalle concupiscenze carnali, si sono fatti vincere dalle proprie passioni perché abitavano nella carne capite? E noi oggi abitiamo nella carne quindi non facciamoci non non buttiamoci completamente via se dobbiamo se falliamo in qualcosa perché purtroppo siamo nella carne e la carne è debole però dobbiamo saperlo perché dobbiamo rinforzarci spiritualmente sempre di più senza mai venire meno a cercare sempre la forza da parte del Signore di dominare il male capite? di controllarci quindi tenendo conto e ricordando sempre queste cose dobbiamo vivere la nostra giornata ogni giorno capite? cercando il Signore cercando forza spirituale quindi andiamo a leggere di un altro servitore di Dio questo andiamo nel libro di Apocalisse leggiamo dalla lettera alla chiesa di Sardi capitolo 3 i primi versetti Apocalisse 3 e all'angelo della chiesa di Sardi scrivi voglio dirvi che in un punto è scritto che Gesù conosce il ministerio di uno di questi angeli quindi questi angeli delle varie chiese erano i responsabili i pastori i pastori che conducevano le comunità che avevano la responsabilità della comunità infatti Gesù scrive a loro perché avevano la responsabilità capite? cioè li loda dove li deve lodare ma li riprende dove li deve riprendere perché hanno sbagliato qualcosa e al pastore di Sardi all'angelo della chiesa di Sardi Gesù ha detto di scrivere queste cose Gesù ha detto a Giovanni di scrivere queste cose queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle io conosco le tue opere tu hai nome di vivere ma sei e sei morto guardate che parole dure cioè ha un suo ministro che era nella sua mano perché all'inizio di Apocalisse c'è scritto che i sette angeli erano le sette stelle erano i sette angeli delle sette chiese ed erano nella mano di Gesù però questo qui gli dice tu hai nome di vivere e sei morto capite e gli dice si vigilante e rafferma il resto che sta per morire quindi cosa aveva fatto questo pastore aveva smesso di essere vigilante infatti abbiamo 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 visto no abbiamo visto cosa è successo nelle chiese oggi moderne che i pastori e gli anziani hanno smesso di vigilare e si sono infiltrati i massoni gli anticristi i massoni hanno preso il controllo delle varie comunità e li hanno spinte in una strada che non è la via della parola di Dio capite ecco com'è pericoloso non vigilare un pastore deve vigilare sulla chiesa un conduttore un anziano anche che si sente una responsabilità sulla chiesa sulle pecore deve vigilare non deve far passare i lupi non deve far passare i massoni anticristi non deve far passare niente capite quindi se veniamo ripresi se veniamo ripresi perché qualcuno veglia e vigilante gloria a Dio l'ha fatto per il nostro bene se lo facciamo noi per gli altri gloria a Dio lo facciamo per il loro bene capite però bisogna essere vigilanti svegli vuol dire non deve passare niente che non sia una cosa buona se il vigilante rafferma il resto che sta per morire quindi il pastore ha smesso di vigilare e il resto c'era un resto che stava per morire non erano ancora morti ma stavano per morire ma questo se dice un resto vuol dire che ce n'era una parte anche che erano anche già morti vedete i danni che sono stati provocati i danni che questo ministro ha provocato magari ha pregato tante volte signore voglio servirti donna sapienza per guidare la comunità ricevi il dono di ministerio di pastore ti mette il signore a capo di una comunità cosa fai? tu fai morire delle pecore e c'è una parte che sta per morire non è ancora morta ma sta per morire capite anche la nostra azione voglio adesso aprire una parentesi voglio abbandonare un attimo il discorso generale per attenermi a alcuni fatti di attualità ma capite bene che se noi abbiamo visto che una parte della chiesa stava morendo una parte era morta e una parte stava morendo siamo dovuti intervenire nel riprendere pubblicamente tanti pastori di queste comunità perché l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto perché vogliamo vogliamo che il resto non muoia quei fratelli che ancora non sono morti non muoiano anzi vivano e questo è quello che ci spinge a operare ma per il bene di tutti i fratelli delle chiese senza etichette non ci interessano basta che siano nati di nuovo sono nostri fratelli e noi sentiamo forte questo legame che ci lega e noi faremo di tutto pregando e parlando faremo di tutto per liberarli dalla morte spirituale che piaccia o non piaccia a questi conduttori che sono più morti che vivi o completamente morti che gli piaccia o no questo è quello che il Signore ci fa sentire in cuore a ognuno secondo la grazia che Dio ci ha dato ognuno ha la sua sapienza ognuno ha la sua conoscenza i suoi doni che ha ricevuto e mette a disposizione questi doni per il bene della Chiesa per amore della Chiesa quello che si fa lo si fa per amore dei fratelli che piaccia o non piaccia ora chiusa la parentesi su una questione adesso di attualità ritorniamo al nostro passaggio al nostro pastore della Chiesa di Sardi che dice la scrittura poiché non ho trovato questo è Gesù che sta parlando poiché non ho trovato le opere tue compiute nel cospetto del mio Dio qui è importante Gesù si lamenta del fatto che le opere di questo conduttore pastore non erano compiute capite non sta parlando solo di fede voi sapete che la salvezza è per fede lo sapete ma qui Gesù che cosa sta chiedendo opere perché come ci insegna Giacomo le opere sono la manifestazione della fede qui Gesù dice le opere di questo conduttore non erano compiute cioè non erano mature non erano sufficienti al cospetto di Dio erano mancanti le opere perché qui uno dice vabbè ma le opere perché molti ci accusano ah ma voi insegnate la salvezza per opere noi non insegniamo la salvezza per opere però insegniamo che le opere sono molto importanti per manifestare la fede se non ci sono le opere vuol dire che la fede sta avendo dei problemi infatti l'ha accusato di essere morto gli dice Gesù a questo e tu hai nome di vivere e sei morto capite ma da che cosa si vedeva che era morto dalle dalle opere che quest'uomo non compiva non le aveva compiute e Giacomo cosa dice la fede senza le opere è morta vedete ora considerando queste cose se dalle opere vediamo se la fede è viva o è morta stiamo dicendo che la salvezza si ottiene stiamo forse dicendo che la salvezza si ottiene per mezzo delle opere no stiamo dicendo che la salvezza si ottiene per mezzo della fede ma questa fede deve essere manifestata dalle opere io non vedo la fede che è dentro il cuore di quella persona ma vedo le opere di quella persona se queste opere non sono compiute vuol dire che la fede ha dei gravi problemi è morta capite è di questo che lo sta accusando Gesù al pastore lo sta accusando come ha spiegato anche Giacomo quando ha ragionato sulle opere sulla fede capite quindi le opere sono importantissime ma perché vengono in maniera naturale vi faccio un esempio voi come fate a capire che c'è un fuoco anche da lontano quando sentite il fumo l'odore del fumo vi sta dicendo che là c'è un fuoco ma qui le opere ci dicono che là c'è la fede capite sono le opere che ci dicono che in quella persona c'è la fede che tipo di fede c'è ma oggi l'abbiamo visto per tornare ad un altro argomento di attualità l'abbiamo viste le opere e le fede di molti sono corsi al dio vaccino per salvarsi la vita non si sono inginocchiati a chiedere la protezione di dio non si sono inginocchiati a gridare signore tu che sei colui che ci scampa da ogni male che sei colui che ci protegge dalla peste mortifera proteggici no sono andati al dio vaccino speriamo che il signore produca dio sapienza all'uomo per produrre il vaccino per iniettarcelo e per guarire però questi vaccini come sono fatti come sono fatti loro dicono loro dicono ma il dio ha dato sapienza per costruire il vaccino certamente una certa intelligenza ci vuole anche per quello però c'è stata intelligenza anche nel programmare preparare e poi lanciare anche le bombe atomiche anche lì c'è stata una sapienza un'intelligenza particolare che hanno avuto quelli che hanno preparato tutto però hanno fatto tanti morti capite sempre tutto volontà di dio ma certamente non è una volontà da premiare cioè non è certo che quello che hanno fatto gli uomini è un'opera che va premiata davanti a dio così anche i vaccini fatti con partecipazione di feti abortiti ditemi voi se dio può approvare una tale cosa soprattutto nei credenti suoi figlioli che predicano contro l'aborto e poi si fanno il vaccino che salva che li salva prodotto con parti di aborti difetti abortiti fatti abortire capite quindi non c'è benedizione nel prendere questo vaccino e non c'è opera che manifesta la fede in dio no la fede in dio la manifesti se tu non temi questo virus ti inginocchi davanti a dio e dici signore preservami da ogni male preservami da questo virus poi può essere anche che ti prende il virus ma come è successo ad alcuni fratelli ti prende il virus come un'influenza e non ti succede nulla capite quindi non è detto che il signore protegge soltanto dal fatto che non lo prendi puoi anche prenderlo ma non ti fa niente capite non ti fa niente e questo chi è che ti ha protetto il signore perché se alcuni muoiono e altri no vuol dire che il signore decide chi far vivere chi far morire capite poi dice Gesù per tornare adesso alle ultime parole che voglio considerare di Gesù dette al pastore di Sardi dice così lo esorta dunque ricordati dunque di quanto hai ricevuto e udito e serbalo e ravvediti vedete naturalmente chi si trova in una situazione sbagliata di peccato che non è a posto davanti a Dio deve ravvedersi e deve fare anche questo e questo non lo dobbiamo dimenticare mai dobbiamo ricordarci cosa vuol dire ricordare ricordare vuol dire riportare nella mente ed elaborarlo cioè pensare a quella cosa elaborare un pensiero un ragionamento su quella cosa che ti sei riportato nella mente naturalmente prendendola dalla verità della parola non dai propri pensieri quindi bisogna ricordare riportare alla mente le cose che sono scritte nella parola le verità bibliche le verità della parola di Dio le verità dottrinali elaborarle elaborarle e poi metterle in pratica capite le opere che sono da mettere in pratica le dobbiamo mettere in pratica ecco qui Gesù ti dice ricordati ricordati di le cose che hai imparate le cose che hai letto nella parola ricordati anche le cose che hai ricevuto cosa hai ricevuto dei doni da Dio sapienza intelligenza il battesimo con lo spirito santo la salvezza per prima cosa ricordati che prima eri perduto e adesso sei stato salvato non te lo dimenticare mai se sei stato trasportato dal regno delle tenebre al regno della luce del nostro Signore Gesù Cristo sappi che hai dei doveri sappilo te lo devi ricordare sei un un abitante del regno dei cieli quindi devi tenere conto di quali sono i tuoi doveri se tu sei un cittadino del cielo devi sapere quali sono i tuoi doveri in questo regno se ne fai parte e mettere in pratica quello che devi che ti viene richiesto da Dio e dalla parola capite non puoi trascurare queste cose e laddove tu ti ricordi certe cose e hai sbagliato qui dice Signore ricordati ravvediti pentiti chiedi perdono a Dio capite bisogna osservare cioè conservare accuratamente in tutte le maniere possibili le cose giuste che abbiamo imparato le dobbiamo conservare serbare nel cuore e ricordarle di continuo capite di continuo perché le dobbiamo elaborare perché queste cose sono le cose che ci fortificano e ci mantengono fermi nella volontà di Dio capite quindi vedete vedete dunque come l'uomo riceve tanto dal Signore questo vaso di terra che è l'uomo riceve delle cose potenti e gloriose dal Signore però ricordatevi che questo vaso di terra di carne è debole bisogna sempre riconoscerlo questo ricordarselo anche questo riportarlo alla mente che siamo deboli e cosa ha detto il Signore nostro Gesù Cristo ha detto come ci si può opporre per vincere a queste debolezze dobbiamo studiare le sacche scritture dobbiamo continuamente elaborare nella nostra mente per farlo poi depositare nel nostro cuore tutto ciò che viene insegnato nella parola di Dio dobbiamo studiare queste cose poi dobbiamo perseverare nella preghiera per trovare comunione con il Signore perché più stai in preghiera in comunione con il Signore meno possibilità hai che le passioni le debolezze che vivono che sono presenti nella nostra carne ci possano sopraffare e sopraffare magari anche in maniera grave capite poi dobbiamo santificarci e certo quello che abbiamo studiato poi lo dobbiamo mettere in pratica ricordando sempre di esaminare noi stessi secondo la parola di Dio per vedere se c'è qualcosa che va va gettata via che va tolta dalla nostra vita per lasciare spazio solamente alle cose che piacciono al Signore ricordando ancora anche questo riportando anche alla mente che la nostra carne è debole quindi e che Gesù ha detto che lo spirito è pronto ma la carne è debole pregate dunque di non entrare in tentazione perché quando il diavolo va attorno come leon ruggente per vedere chi possa sbranare è pronto attorno a noi intorno alla Chiesa è pronto a tentare a mettere alla prova a spingere se può i credenti a peccare magari rovinando la loro reputazione capite è già un grande risultato per il diavolo se riesce a rovinare la reputazione dei servitori di Dio ottiene un grande risultato noi però dobbiamo saperle queste cose e contrapporci combattere contro tutte quelle cose tutte quelle cose che sono negative che sono contro il regno della luce contro il regno di Gesù Cristo ci dobbiamo opporre ricordare queste cose considerare che siamo deboli come erano deboli come diciamo erano sottoposti alle stesse passioni anche tutti i servitori di Dio che sono citati nelle sacre scritture e questo fratelli e sorelle era il messaggio che volevo darvi questa sera per farvi riflettere su alcune cose che devono accompagnarci di continuo tutti i giorni a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén